Ben trovati con lo spazio a cura di Mediocalabria.net. Ci aspettano condizioni di caldo rovente per tutta la settimana, con temperature massime e costantemente superiore ai 40 gradi nelle pianure più interne. Lunedì 26. In genere sereno, mari calmi o tutt'al più localmente poco mossi, venti deboli a regime di brezza, temperature in rialzo, caldo intenso, valori diurni fino a 40 gradi fra Valle del Crati e Piana di Sibari. Persiste il gran caldo anche per martedì 27 luglio, temperature diurne probabilmente anche oltre i 40 gradi in alcune località di bassa quota del territorio regionale. Per oggi è tutto, grazie per l'attenzione, appuntamento al prossimo aggiornamento. Grazie per la visione!